bentornati raga e benvenuti per chi è nuovo nel canale ragazzi allora oggi mi voglio informare che finalmente siamo riusciti a portare ragazzi il savattaggi modati su xbox next gen raga quindi solo xbox series x e mi raccomando la nuova versione di gioco se siete interessati contattatemi su telegram ragazzi mi raccomando non mi rompete le palle per i prezzi perché per xbox è tutto veramente un bordello ragazzi portarlo e riceverlo tramite ps4 quindi se siete davvero interessati mi potete contattare se no potete pure schippare il video come potete vedere nello slot degli abiti c'ho il magic slot io semplicemente selezionando qualsiasi completo a me piace e poi riselezionando il secondo completo che si chiama magic slot io trasferirò tutti i loghi quindi a questo punto possiamo partire con il tutorial di come usarlo ragazzi ma prima sigla raga quindi raga iniziamo potete partire con qualsiasi outfit è indifferente quindi una volta che abbiamo inserito a salvataggio modato ragazzi che per inserirlo dovete contattare me è una cosa che faccio io ve lo inserisco e una volta che ce l'avete dovete seguire questo tutorial quindi andate in storia una volta che siete già in una sessione online fate lo switch e andate nella storia ragazzi quando tornerete in storia spawnerete con franklin o con un altro personaggio a caso ok ragazzi quello spawna random comunque sia una volta che siete in storia e non avete il vostro personaggio quindi avete questo diverso dovete semplicemente andare su partita andare su carica partita e salva e caricare ragazzi scusatemi sopra luogo al porto che questo sarà il nostro sabataggio modato una volta che noi caricheremo questo sabataggio modato spawneremo ragazzi in storia con michael con una maschera bagatissima con una maglia che non so dove cazzo esca senza pantaloni ragazzi quindi se siete arrivati a questo punto e siete spawnati in questa maniera ragazzi avete fatto per adesso tutto giusto non potete sbagliarvi quindi non ci resta altro che recarci regà nella scuola di volo in questa posizione a questo punto una volta arrivati ragazzi dovremo partecipare su un amico su anawak su qualcuno che sta in mira differente ragazzi ok in questo momento anawak ce n'ha per le palle di stare online quindi mi sono fatto dare una mano da xenoro e saluto e ringrazio bella bro quindi a questo punto ragazzi una volta che siete arrivati qua che stiamo con questo bel salvataggino moddato apriamo il nostro menu di pausa o lo fate dal menu xbox è indifferente dovete partecipare su quindi un amico che sta in mira differente ragazzi dopo di che accettate il primo e rifiutate il secondo messaggio ragazzi a questo punto non ci resta altro che dirigerci per andare all'interno della scuola di volo niente di più facile regà a questo punto ascoltatemi bene perché inizia il difficile clicchiamo una volta su decollo ragazzi sulla prima lezione dopo di che a questo punto una volta che spawneremo all'interno faremo salta per saltare il tutorial che non ce ne frega niente ragazzi e adesso ascoltatemi dovete appena starta la lezione schiacciare triangolo y per scendere dal velivolo ragazzi dopo di che aprite subito il menu xbox o il menu playstation e partecipate su un vostro amico che stia in mira differente a questo punto una volta che c'è recupero accettate il primo messaggio ragazzi e sul secondo messaggio ascoltate bene dovete sentire questo rumore alla fine di questo rumore ragazzi in teoria dovete cliccare una volta b o cerchio e cliccare una volta al menu di pausa quindi option se giocate la play per aprire il menu di pausa deve essere fatto velocissimo ragazzi quindi adesso ve lo faccio rivedere nella maniera corretta quindi scendo dal veicolo apro il menu xbox ops partecipo su un amico indifferente accetto il primo sto fermo ragazzi ascolto il sound appena finisce ragazzi clicco b e subito il menu di pausa il risultato dovrà essere questo che siamo in questa schermata gliziata ragazzi è fondamentale ragazzi non vi aspettate che è facile perché non lo è io ci ho messo una mezz'ora buona mi raccomando se sbagliate dovete ripartire da fuori la scuola di volo e riniziare quello step quindi a questo punto andiamo su online ragazzi gioca gta online crea una sessione ad amici chiusa fondamentale appena avvierete la sessione ad amici chiusa ragazzi come potete vedere avremo questo menu buggato adesso regà non ci resta altro che cliccare tre volte freccetta su regà e r1 se giocate da play o rb se giocate da xbox il risultato è che vi darà questa schermata con gli switch arancioni della scuola di volo ragazzi come potete vedere quindi una volta che spawneremo e avremo questa schermata saremo in questa situazione abbiamo quasi finito il glitch quindi non ci resta altro che cliccare una volta b o cerchio ragazzi ci darà la schermata di volo e a questo punto una volta che siamo nella schermata di volo clicchiamo una volta al menu di pausa ragazzi start option come volete chiamarlo e a questo punto ci andiamo ad avviare regà la nostra amica attività un lavoro da titano e la trovate nel create da rockstar missioni un lavoro da titano regà avrete sempre questa schermata glitchata regà sto cercando di velocizzare e tagliare il meno possibile così riuscite a vedere tutto chiaro chiaro a questo punto è facile andiamo ad avviare l'attività lavoro da titano normalmente ragazzi quindi questa parte la velocizziamo e una volta arrivati all'interno dell'attività avremo questa situazione avremo la schermata baggata spostata verso l'alto a sinistra ragazzi e dovremo cliccare b b a quindi se giocate da play cerchio cerchio x ragazzi e saremo in questa schermata a questo punto ragazzi e sbada bam ragà avremo il nostro magic slot allora ve lo dico già subito il cappellino non si salva ragazzi non stato ve lo chiedere ma rimangono i loghi i loghi li potremo mettere su tutti gli outfit quindi adesso dobbiamo semplicemente salvarlo perché vi ricordo che siamo nel lavoro da titano quindi ci dirigiamo dal negozio di ammunition più vicino regà e ora vi dico anche due consigli io lo salverò più volte quindi mi metterò il magic slot nell'ultimo posto ragazzi così quando andremo a fare magari dei completi moddati nei merge nell'attività riusciremo a tirar fuori qualcosa e poi me lo salverò anche in altre parti non sto a sacrificare il primo perché almeno quello me lo tengo per fare gli outfit normali ma l'ultimo lo sacrifico per tenere il magic slot ragazzi è veramente una bomba ragazzi se volete siete interessati non esitate a contattarmi mi contattate io vi inserisco il salvattaggio moddato nell'account dopo di che vi fate questo glitch regà e avrete i loghi su tutti gli outfit ragazzi niente io spero che questo video vi sia stato d'aiuto regà lasciate un like lasciate un commento supportate xavix e sbadabamme regà al prossimo video buona visione ciao 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 ciao